Allora, grazie per l'entusiasmo, grazie... Sentiti di te con la maglietta del Milan che ti voglio vedere. Bra, una volta che vinciamo, festeggiamo, no? Quanti anni hai? Sei un grande. Ehi, ci sta, oi, qua c'è gente sveglia. No, grazie, non vi rubo via troppo tempo perché a 46 anni, giovane, non posso più essere considerato, anche se mi sento ancora un pochino giovane dentro, due o tre riflessioni sul passaggio storico che in Emilia e in Romagna si sta vivendo, perché poche volte nella storia capitano quei passaggi che poi verranno ricordati per anni e anni e anni. Voi state vivendo uno di questi passaggi e questo è da invidiare, perché sicuramente a casa voi avete genitori o nonni che vi stanno dicendo che io non ce l'avrei mai pensato che sarebbe arrivata anche la voglia dell'Emilia e della Romagna di cambiare finalmente pagina. E quindi vi invidiano. Io vi invito a vivere questi 15 giorni a scuola, in università, con gli amici, al bar, in parrocchia, come un'avventura straordinaria dove scaldare i cuori. Noi, un giornalista mi ha detto, ma quindi qua ci sono i giovani della Lega che sono contro le sardine. Ma no, ma chi se ne frega. Noi abbiamo ambizioni, abbiamo ambizioni. Poi a me piace pescare, però io preferisco il pesce d'acqua dolce al pesce d'acqua salata. Però io a voi chiedo proposte, passione, mancanza di paura, lo diceva Borsellino, che chi ha paura muore tutti i giorni, chi non ha paura muore solo una volta sola. L'Italia ha bisogno di gente che non ha paura, non ha paura, non è sottoricato. Ringrazio per il lavoro fatto chi c'era prima, ringrazio per il lavoro che farà chi verrà dopo. Anch'io ho cominciato a 17 anni, la voce la sto lasciando sulle strade dell'Emilia e della Romagna, lungo la via Emilia, però conto di arrivare al 24, con zero voce, ma con tanti voti e tanti sorrisi e tanta voglia di cambiare questa splendida terra, perché del PD anni post, a casa, finalmente, dopo una vita. Dopo una vita. Vi invito a non sentirvi mai soli, nel senso che quando ho cominciato a Milano, nel gruppo studenti della Lega nel 90, e molti di voi non erano manco nati, vi invidio, eravamo una gran cifra a Milano, tre, tre. C'ero io del Manzoni, c'era uno del Parini e uno del Berset. E uno normale dice, ma in tre, non facevamo neanche lo scopone scientifico, perché me ne mancava uno, e quindi dici, mollo, lascio perdere. Invece mai lasciar perdere, perché quando si è almeno in due, si può fare la rivoluzione, perché poi dopo il terzo arriva il quarto, arriva il quinto. Mi invito a fare quello che si faceva una volta, che magari a sinistra non fanno più, perché non sono più abituati. portare la buona politica anche nelle scuole, qualche bel sano volantinaggio, col preside che si incazza, con la prof che si incazza. Non sono stato il primo, e voi non seriete gli ultimi, ad avere un 5 per motivi non strettamente scolastici, ma per motivi di simpatia e antipatia. e non sarà mai troppo tardi il giorno in cui i professori porteranno a scuola solo il confronto e il sapere, e lasceranno fuori dalla classe le loro idee politiche e il loro pregiudizio politico. E arriverà quel giorno, poi si passa all'università e anche lì arriverà il giorno in cui varrà il merito, e non si avrà il dottorato di ricerca o magari l'avvicinamento alla cattedra per amicizia, per lecchinaggio, per raccomandazione, ma esclusivamente per merito. La riforma della scuola e la riforma dell'università sono fondamentali. Io sto trovando imprenditori straordinari in Emilia e in Romagna, che però faticano a trovare ragazze e ragazzi formati. e quindi rimettere al centro lo studente, perché il mondo della scuola ha un po' vissuto sulle esigenze dei sindacati, più che degli studenti e degli insegnanti. Quindi rimettere al centro lo studente. Poi, per carità, ho trovato un imprenditore che sta facendo lavorare migliaia di persone che ha la licenza media, neanche ha la licenza superiore. Io mi auguro e vi auguro di arrivare in fondo al vostro corso di studi, perché è meglio averlo, il diploma e la laurea, che non averli. Però, non contro tutto e contro tutti, perché non è il titolo di studio che fa l'uomo o fa la donna, perché ci sono altre qualità che faranno l'uomo e la donna, fra cui la passione, la coerenza, l'onore, la lealtà, la competenza. Qua dentro sono sicuro che ci sarà qualcuno che darà una mano al futuro della regione Emilia-Romagna, perché dopo 70 anni, al di là della politica, c'è anche un bel po' di burocrazia da mandare a casa. E quindi magari alcuni di voi avranno l'onore e l'onere di mettersi a disposizione della vostra terra. E poi grazie, perché è una domenica pomeriggio, invece di essere a casa, di essere allo stadio, di essere a teatro, di essere a passeggio, siete qua. Vi chiedo nei prossimi 14 giorni di vivere come fossero gli ultimi 14 giorni, sulla faccia della terra, perché veramente voi la state vivendo e quindi magari non ve ne accorgete, ma vista da fuori, voi siete protagonisti di una rivoluzione pacifica che noi vinciamo e che non cambia la storia di Reggio, cambia la storia d'Europa, perché è anche una scelta di valori, perché di là ci sono la rabbia, il rancore, l'invidia sociale, l'annullamento delle tradizioni. Di qua ci sono i valori, i valori che sono la mamma, il papà, la famiglia, il parmigiano, la nostra agricoltura, la nostra pesca, il nostro territorio, non le centrali a biogas che devastano il territorio per far guadagnare qualcuno, non le multinazionali che vogliono mettere fuori legge la dieta mediterranea per vendere le loro schifezze anche in giro per tutta l'Emilia e tutta la Romagna. Quindi vi invito a essere sorridenti e più a sinistra si incazzano, più noi dobbiamo sorridere. Perché questo... Mai, diceva qualcuno più saggio di me, mai mettersi a litigare con un cretino perché ti batte. E quindi mai mettersi su quel livello. Proviamo a far finta di niente, anche perché chi vive di insulti, di rabbia, ha già perso. Quindi buon lavoro per oggi, dove non si parla di passato. Io vedo che nelle piazze ci sono alcuni giovani nati già vecchi, che sono lì a fare processi a qualcosa che non c'è più da 70 anni. Io vi invito ovviamente a studiare la storia, io ho fatto storia, a studiare la storia però a guardare avanti. C'è qualcuno che sta girando l'Emilia dicendo non votate la Lega perché sennò c'è l'assedio dei fascisti, tornano i nazisti, gli alieni, i marziani, i venusiani. E io li cerco, questi fascisti, ma non li trovo. Ogni tanto guardo sotto l'asseggio, la guardo sul campanile. Perché allarmi, allarmi, arrivano i fascisti. Non ci sono fascisti, ci sono semplicemente emiliani, orgogliosi di essere emiliani. Italiani, orgogliosi di essere italiani. Quindi sono lì a guardare. Al centro il lavoro, il lavoro, la conoscenza, la ricerca, la bellezza, l'ambiente. Però l'ambiente consapevole, non l'ambiente con la tara mentale dell'ambientalista da salotto. Io stavo leggendo, sto incontrando una marea di agricoltori, anche giovani. E' bellissimo, perché è uno dei settori dove il lavoro giovanile cresce di più. Quello legato alla terra. E l'ambiente non è come qualche supporter di Bonaccini vorrebbe mettere i microchip alle nutrie per tutelare le nutrie. No, ma arrivano... Cioè, c'è gente che poi fa niente se la nutria ti scava l'argine e mezza emilia finisce sott'acqua. L'importante è mettere magari il microchip o anche il salvagente. Perché vuoi mai che se c'è un'esondazione non ci sia la povera nutria che soffre. Chi se ne frega se poi ci sono persone che perdono la casa e perdono l'azienda. Tutela dell'ambiente significa, ad esempio, lasciare che per la montagna decida la gente di montagna. Non qualche ambientalista da salotto che sta in ufficio in piazza del Duomo. E quindi, se in montagna a reggio serve una diga, in montagna a reggio bisogna fare la diga. Ma adesso Bonaccini ha detto che serve. Ed è una cosa che non mi aspettavo neanch'io. Ieri in Romagna non so quante centinaia ne abbiamo incontrati. E poi non nei centri delle città. Ieri mi hanno fatto... Ormai posso fare Google Maps. Io faccio anche... Anzi, che... Come si chiama quello dei quattro ristoranti? Alessandro Borghese. Ma non mi vede neanche passare per caso. Io vado in posti che... Ieri a Verucchio, Nova Feltria, con gran comizio a Ranchio. Ho detto, ma quanti abitanti fa Ranchio? 400. E ce n'erano 800 in piazza. Quindi c'era tutta Ranchio più paesetti di fianco. È bello. È bello perché la politica è contatto diretto. Quando ogni tanto qualche ragazzo mi chiede ma qual è la qualità? Maggiore che tu consigli a un giovane di avere. Io due, soprattutto, se riguardo alle mie vicende, al di là ovviamente della competenza e di tutto il resto. Pazienza, perché senza la pazienza non si va da nessuna parte. Può essere l'uomo o la donna più intelligente del mondo, ma se non hai pazienza, se non hai costanza, se non sai aspettare il tuo momento... ne ho visti tanti, di giovani bruciare le tappe. Bravi, eh? Bravi. Che hanno cominciato con me. Poi però quando ti senti troppo bravo o indispensabile, sbagli. Qua dentro ci sono tante persone utili, me compreso, ma non ce n'è neanche una. Indispensabile. Se qualcuno si ritiene indispensabile, ha sbagliato movimento politico, ha sbagliato comunità. Perché di... E poi far gioco di squadra. Far gioco di squadra. Anche qua, perché tu puoi avere... Una squadra di calcio vince se ha undici persone che collaborano. Tu puoi avere Maradona in campo, ma se ognuno gioca per conto suo non vai da nessuna parte. Unita alla coerenza. Quelli che cambiano idea ogni quarto d'ora, cambiano partito ogni quarto d'ora, cambiano fronte ogni quarto d'ora. No. La roba bella è che anche stamattina a Brescello ho trovato più di un signore con qualche annetto sulle spalle che è venuto in piazza, faceva un freddo cagnotto, però mi ha detto Salvini mi state facendo fare qualcosa che non avrei mai pensato di fare nella mia vita perché io ho sempre votato a sinistra. Io vengo da una famiglia di tradizione comunista o socialista, da una tradizione operaia, partigiana, di lavoro, di fatica, di calli sulle mani e non avrei mai pensato di non votare a sinistra e il 26 gennaio sto giro voto Lega perché ormai il PD è il partito dei banchieri, dei milionari e dei signorotti non il partito degli studenti, dei lavoratori, degli artigiani e quindi vi invito ad andare al di là degli steccati ideologici, destra, sinistra, fascismo, comunismo questi sono dibattiti storicamente interessanti però oggi al centro c'è il lavoro e se quei cretini della sinistra portano in Parlamento una proposta in legge come in Francia per alzare l'età pensionabile è chiaro, non occorre uno scienziato per capire che se tu alzi l'età pensionabile voi il lavoro lo trovate più tardi e noi dobbiamo unire diritto alla pensione e diritto al lavoro per puntare sui giovani perché tutti si riempiono la bocca i giovani, i giovani, i giovani, i cervelli in fuga, i cervelli in fuga e grazie al cazzo qua se tu c'hai il diploma, la laurea e arrivi a 26 anni e il massimo che ti capita a volte è un bel contratto interinale di 20 giorni rinnovabile forse di altri 20 giorni se fai il bravo e non rompi le scatole e se sei una ragazza e hai il coraggio di rimanere incinta sei finita, è chiaro che chi può scappa ecco rimettiamo al centro la donna, l'uomo, il diritto alla vita, il diritto al lavoro il diritto a essere famiglia io sarò e vi aspetto tutti sabato prossimo il 18 a Maranello perché è il simbolo dell'Emilia che sogna, che corre e che vince lasciamo agli altri la rabbia, il rancore noi guardiamo avanti guardiamo avanti quindi lavoro, tasse, burocrazia però anche identità e sacralità dei bimbi e come sarò a Maranello il 18 sarò invece giovedì 23 gennaio alle ore 18 con le mamme e i papà di Bibiano a cui sono stati portati via i bimbi con l'inganno perché non si entra con l'inganno in casa della gente di notte come i ladri in bocca al lupo ragazzi qua sicuramente ci sono consiglieri comunali, assessori, sindaci consiglieri regionali magari c'è il futuro governatore della regione Emilia Romagna dopo Lucia Borgonzoni ecco ci sono i giornalisti che non riescono a capire che noi in Lega riusciamo anche a fare due cose diverse contemporaneamente so che per il PD è difficile da capire però se io sono a Reggio oggi Lucia è a Modena e a Bologna se io domani sono a Parma Lucia è da un'altra parte e se io sono in Romagna Lucia è in Emilia è meglio fare due incontri che non uno questo non lo capiscono anche perché io ho visto adesso la foto della folla che stava applaudendo oggi Bonaccini a Cesenatico loro possono fare la briscola chiamata quindi non hanno bisogno di grandi spazi tutti i anfiteatri quattro amici al bar ma con tutto il rispetto per i quattro amici che vanno che vanno al bar quindi l'ho fatta anche troppo lunga adesso vado a Novellara poi stasera Borgo Valditaro domani a provincia di Parma dopo domani a provincia di Piacenza fra tre giorni la provincia di Bologna poi giovedì faccio mezza giornata a Roma per andare a portare il mio contributo a un convegno che abbiamo organizzato come Lega sull'antisemitismo per ricordare i fenomeni di sinistra essere antisemiti nel 2020 significa odiare Israele e chi odia Israele spesso e volentieri sta a sinistra o è un estremista islamico e quindi il problema il problema ce l'hanno in casa loro e dovrebbero guardare in casa loro e poi ci rivediamo ragazzi chiedo a ciascuno di voi mancano 14 giorni adottate un emiliano al giorno per togliersi il PD di torno quindi svegliarlo svegliarlo a scuola e io veramente non me lo aspettavo trovo una marea di ragazze e le piazze sono piene ma di proposte quando si parla di reggio noi parliamo di centrale biogas parliamo delle cooperative fallite che hanno lasciato a casa i lavoratori parliamo di case popolari di liste d'attesa negli ospedali e di là la risposta che c'era ieri a Imola piuttosto che in altre piazze alla nostra idea di Emilia la risposta di qualcuno con la falce e il martello è molto elaborata nel senso che hanno un'analisi molto approfondita che sostanzialmente ieri si riassumeva con vaffanculo era un'idea filosoficamente anche fra Hegel e Kant nel senso che era molto interessante da approfondire e se non era vaffanculo era dove ero? io ero già a Villa Verucchio ero in Romagna c'era una marea di gente bella gente ma ci sono state sette, ottocento persone e di là ce ne erano venti urlanti come assatanati e con cori a un certo punto è partito poi non si sentivano poverini perché noi erano tanti e belli loro erano pochi e brutti e due robe si sono riuscite a sentire scemo scemo mia figlia ha sette anni ha un pensiero più articolato rispetto a quello che sentivo va bene così vi chiedo in questi 15 giorni di essere la voce che non ho più perché in ballo c'è il vostro futuro non il mio il mio mezzo del cammin della mia vita vabbè che mai dire mai siamo tutti nelle mani del buon Dio potrebbe essere alle spalle però il bello deve ancora venire Fabrizio e Andrei quando gli chiedevano ed è un approccio alla vita bello che vi invito ad avere quando gli chiedevano è stato uno dei più grandi di sempre ma quando gli chiedevano qual è la canzone più bella che hai scritto e lui rispondeva la canzone più bella io la devo ancora scrivere perché quello che ho fatto fino a ieri mi riempie di orgoglio ma io sono appassionato a quello che farò da domani in avanti quindi mai rassegnarvi ci saranno anche in lega momenti belli e momenti benobelli momenti di gioia e momenti di incazzatura se ciascuno di voi fa quello che stiamo facendo noi e che avete fatto negli scorsi giorni sono sicuro che il 26 gennaio 2020 sarà una data che rimane incisa sui libri di storia grazie grazie e ancora grazie buona fortuna viva l'Emilia Romagna viva la libertà e viva la democrazia e viva i giovani della Lega e grazie a tutti voi grazie a Luca e grazie per quello che farete buona vita e buona fortuna grazie a tutti